Sono aperte le iscrizioni al seminario La Spogliazione condotto da Federico Cimaroli il 24, 25 e 26 maggio ad Assisi. Per info e prenotazioni rimandiamo ai link sotto al video in info box nella sezione Visualizza i prodotti oppure nel nostro sito shopcavuresoterica.it alla voce Eventi e Corsi. Salve Federico, a scriverle è la madre di un ragazzo qualunque che era presente al convegno ossesso versus incontro amore. Le scrivo per dirle che lei è un pessimo esempio per i ragazzi. È stato presentato come esperto dei Vangeli, ma io mi chiedo se le ha mai letti. Gesù parlava di non fare agli altri ciò che non vuoi che ti sia fatto, di amarsi gli uni gli altri come lui ha amato noi, di porgere l'altra guancia. E invece lei si rende conto di ciò che ha detto al convegno. Ha parlato che il possesso è sacro, che lo sbaglio non esiste. Ma che insegnamento è questo? A cosa serve madre di un ragazzo qualunque? Tu, madre di un ragazzo qualunque, tuo figlio, lo ami come lui ha amato noi? Già madre di un ragazzo qualunque, qualunque poi, qualunque. Questo è il problema. Che voi fate dei principi spirituali inesistenti, perché per voi sono informazioni. Non sono fatti ed è quello che io ho portato in quel convegno. Altrimenti, come diceva De Bordi, il consumatore reale è il consumatore di illusione. Tutti consumatori di illusione. Chi da una parte, che dicono che i Vangeli sono una minchiata, e chi dall'altra, che dicono che invece i Vangeli sono cose reali. Tutti due dei pirla. Perché? Perché sono pieni di informazioni, come diceva Derrida. La stampa non informa sui fatti, informa i fatti. Basta riempire i fatti che non avete vissuto di informazioni. Perché? Spegnete l'insegnamento. Se voi non fate questo lavoro qui e precipitate su un altro livello d'ascolto, i fuochi del cuore non possono liberarsi. E i fuochi del cuore hanno una loro intelligenza, di questa guerra ne parliamo, e vi consegnano loro l'ingresso al sovramentale, l'ingresso di quella fiamma, quella fiamma che si posa sul vostro piatto. E sapete Thomas Eliot, che è uno dei più grandi poeti del Novecento, sapete come definiva tutti gli uomini che basano la loro vita, le loro scelte su informazioni prese da altri? Gli uomini vuoti. Ma non sono il vuoto di cui parlo io, il vuoto vivo. Chiama uomini vuoti tutti coloro che hanno il cervello pieno di informazioni, credendo che tali informazioni siano fatti spirituali. poiché prendendo tali informazioni per fatti spirituali, l'identità gli dice, no, ma questa cosa è così, non c'è bisogno che l'esperienzi. Ma di fatto, se tu non esperienzi, e per esperienziare devi farti vuoto nessuna dieta, tutto ciò non ha valore. E di conseguenza noi abbiamo tramandato in questi 2000 anni, informazioni su informazioni, informazioni di altri per informazioni agli altri, informazioni per informazioni, informazioni da lui che passa informazioni agli altri, ma così abbiamo allevato i nostri figli, pieni di informazioni. E sapete perché non ci danno retta? Perché puzzano di ipocrisia. Quindi, madre di un ragazzo qualunque, qualunque oltretutto un bel paio di coglioni, qualunque sei tu, e vuoi rendere qualunque tuo figlio. Lui non è qualunque, tu sei qualunque. Quindi comincia a farti vuoto e nessuno tu, comincia a uscire dalla madre del ragazzo qualunque, scopri chi sei, esci dal mondo dell'ignoranza, altrimenti tutto ciò che dirai sarà ipocrisia. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno della rubrica Il risveglio dell'anima che tengo per la libreria esoterica Cavour. Allora ragazzi, io francamente questo video non avrei neanche dovuto registrarlo perché non era in programma. Ero a pranzo, oggi, ero a pranzo oggi e tra un piatto di riso e i fagioli a seguito, nel frattempo, mi è venuta questa impellente necessità, a questa spinta a finire di mangiare velocemente i fagioli e correre a casa, non... Dopo aver mangiato i fagioli e correre a casa. Per distruttare questo video. Non ha un... È come se fosse urgente che io ne parli. No, funziona spesso così. Non sempre, spesso, spesso funziona così. E sono quei video più belli, per me, perché sono pieni di entusiasmo, sono recitatissimo al pensiero di farlo. E c'è un'urgenza profonda che non viene da Federico. Federico non lo sa. Federico è un mezzo. È un mezzo attraverso cui passa questa cosa qua. Ecco, mi auguro, infatti, per comprendersi che anche voi diventiate un mezzo, un mezzo d'ascolto. Cioè, voi diventiate l'ascolto. Non voi, Pino, Giovanna, Francesco e Donatella che ascoltate, ma in un certo senso ciò che voi pensate di essere vi presti le orecchie al fine che voi ascoltiate. Massima attenzione. È una donna che non si firma. O meglio, si firma come madre di un ragazzo qualunque. Poi vi dirò di cosa parla, perché non lo sapete neanche, perché era un qualcosa che non è stato soggetto a pubblicità poiché era un evento per dei ragazzi di liceo, in un convegno davanti a 7-800 studenti a cui ho partecipato come uno dei allenatori. Ebbene, vabbè, adesso io leggo la mail di questa madre, di questa mamma, che mi è arrivata una settimana fa. Francamente volevo anche risponderle, però sarebbe stato un testo troppo lungo. Allora, come faccio spesso, se ho la possibilità di rispondere sinteticamente lo faccio alle mail, questa cosa lo sapete. ma se ciò che scrivete necessita di una caratterizzazione, una divulgazione, prendo la mail e faccio un video oppure scrivo un testo nei canali social perché è qualcosa che magari può servire a chiunque. Ascolti e segui l'insegnamento. Quindi massima attenzione. Salve Federico. A scriverle è la madre di un ragazzo qualunque che era presente al convegno possesso versus, quindi contro amore, possesso contro amore, le scrivo per dirle che lei è un pessimo esempio per i ragazzi, altro che insegnante. È stato presentato come esperto dei Vangeli, ma io mi chiedo se le ha mai letti. Gesù parlava di non fare agli altri ciò che non vuoi che ti sia fatto, di amarsi gli uni gli altri come lui ha amato noi, di porgere l'altra guancia, di porgere l'altra guancia. E invece lei si rende conto di ciò che ha detto al convegno. Ha parlato che il possesso è sacro, che lo sbaglio non esiste, addirittura che l'omicidio è perfetto. Ma che insegnamento è questo? A cosa serve? Mi auguro davvero che la scuola di mio figlio e nessun'altra scuola la inviti nuovamente. Salute. Allora, letta così, è evidente ragazzi che anche voi magari mi chiedereste ma sei normale Federico? Osamichi gli hai letto a questi ragazzi? Allora, dobbiamo comprendere anche un po' il contesto. Allora, mi hanno invitato, innanzitutto la ragazza che ha organizzato il convegno, tra l'altro il convegno è riuscito benissimo, ragazzi molto attenti, i relatori tutti estremamente capaci, ognuno nel proprio mondo, se no, psichiatri, docenti, filosofi, saggisti, un sacerdote, poi c'ero io. Il mio intervento è stato un po' particolare, però l'organizzatrice è stata veramente molto in gamma, ha messo in piedi un evento molto bello che penso gli auguro che si ripeterà, eccetera, quindi davanti a questi sette o duecento ragazzi per sensibilizzarli a un altro tipo di amore che non sia quello appunto aiugato al possesso, all'attaccamento, eccetera. Quindi nei primi interventi che, non il mio, i primi interventi parlavano appunto di questo, parlavano dell'amore incondizionato, dell'amore senza condizioni, tutta questa roba qui, con un linguaggio secondo me, secondo me, con un linguaggio un po' troppo etereo per ciò che i ragazzi riuscivano a toccare in quel momento. Insomma, temevo nel mio, ma probabilmente mi sbagliavo anche, non è quel discorso, temevo che di tutte queste bellissime parole, di tutti questi bellissimi detti, di tutti questi bellissimi scritti che leggevano, ai ragazzi potesse rimanergli il giusto, ovvero le ennesime cose che probabilmente sentono, non so da quanto tempo. Al che, ripeto, come quando faccio questi video, non è una gran mia scelta, se dico, non dico certa cosa, io non ho preparato questo video, sono arrivato qua, ho attaccato la telecamera, leggo la make, ho lasciato lì una settimana fa, perché, a cavallo del pranzo, mi è venuto a dire, oh, vai a registrare questo video, quindi non lo so. Cioè, ho l'immagine che si sta costruendo di quello che voglio dire, i principi che voglio esprimere, non lo so, perché lì l'immagine, però devo arrivarci lì. Ecco, quindi lì per lì, quando è stato chiamato, quando mi hanno chiamato ad andare sul palco e fare la mia parte, io ho iniziato dicendo, guardate ragazzi, ora, secondo me, il titolo non è che, il titolo non mi fa impazzire, amore versus possesso, possesso versus amore, quindi possesso contro amore, francamente basta di mettere contro l'una e l'altra, no? Basta mettere contro uno, parlare bene di uno e parlare male dell'altro, dobbiamo riuscire più che altro a riconoscere chi siamo, e riuscire soprattutto a cogliere la sacralità, la perfezione di ogni singola cosa, ecco perché, se no non ha senso, a livello mentale, un intervento come il mio, riportato come l'ha riportato la madre di un ragazzo qualunque, non ha senso, ha ragione pienamente lei, però, io ero lì e ho parlato di una cosa specifica, ragazzi, è inutile che parliamo di amore incondizionato se non avete la più palida idea di cosa minchia sia questo amore incondizionato, infatti gli ho detto, ragazzi, ma avete capito voi cos'è sto amore incondizionato, che applaudite quando vi dicono di applaudire, avete capito cos'è sto cazzo di amore incondizionato, e loro dicevano, stavano lì, vi faccio un esempio di amore incondizionato, perché non ti parla di amore incondizionato, poi bisogna ballare il cia 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 durante il giorno, durante la quotidianità, nel mondano, bisogna poi ballare il cia cia cia, bene, l'amore incondizionato è, avete presente il vostro fidanzato, benissimo, il vostro fidanzato mi molla, vi molla per la vostra migliore amica, e voi amate lui e lei, questo è l'amore senza condizione, l'amore libero da identità, l'amore libero da condizione, amare qualsiasi cosa accada nel mondo, qualsiasi cosa ti fanno, qualsiasi cosa tu faccia, questo è l'amore incondizionato, e tutti quanti giustamente sono messi a ridere, perché cavolo, non l'avevo capito proprio così, questa è la cosa, quindi, secondo voi gli ho detto, invece che possesso contro amore a livello orizzontale, ma non è forse opportuno vedere che, se io non comprendo l'amore del possesso, no? Siamo stalla violenza, che è evidente, che uno deve essere demente, per arrivare alla violenza, perché sono lasciato, quindi cosa stiamo facendo? È normale, se all'interno di noi stessi, non vi è un qualcuno che può cogliere la delicatezza, che non si tocca, nessuno, cosa gli vuoi dire dell'amore incondizionato, questo farei disastri lo stesso, ecco, ho detto, non è che forse, passare in questi milioni di anni, dal possesso, ci darà poi la possibilità, no? come ci è data ora, di cominciare, anche a parlarne, o cominciare a intravedere, la possibilità di interagire con delle particelle, che vengono definite, amore incondizionato, dovete vederla proprio come, una capacità di interazione, con delle particelle, via via, sempre più leggero di amore, un amore straordinariamente pesante, che potremmo definire possesso, un amore straordinariamente leggero, che potremmo chiamare, amore incondizionato, in tutte le sue forme, ma è sempre la capacità dell'anima, che ha di interagire con delle particelle, di amore, sempre più delicato, quindi non è possesso contro amore, anzi, se non c'è la capacità, di interagire col possesso, se io non conosco il possesso, non potrò mai conoscere, l'amore incondizionato, non so se ho reso l'idea, benissimo, un discorso logicissimo, no? E ho fatto l'esempio, di Caino e Abele, cioè Caino che uccide Abele, non è sacro? Ecco perché lei dice, che ho detto, che l'omicidio è sacro, non è perfetto? Ma certamente, poiché Caino che uccide Abele, chi è? Non siamo noi, Caino che uccide Abele, non sono io, quello che è stato ucciso, non sono io, quello che è ucciso, non sono io, perché? Perché devo sperimentare il due, noi veniamo dall'Eden, dall'Uno, incapaci di percepire, di esistere noi stessi, incapaci di percepire, di avere interazione, con qualsivoglia materia, di manifestazione fisica, emozionale e mentale, quindi non esiste neanche l'Io, ecco quindi nell'Uno, ma inconsapevole di percepire, inconsapevole di esistere, inconsapevole di esserci, l'omicidio mi comincia a creare quel fattore, ovvero io sono distante da te, io non sono te, e da lì comincio ad interagire con del materiale straordinariamente pesante per noi oggi, ma lì per lì era l'unico materiale con cui eravamo capaci di interagire, quindi straordinariamente perfetto, perché gli ho detto tutte queste cose qui, che quindi è tutto in verticale, tutto in verticale per l'anima, che l'anima non gliene frega assolutamente niente dei fatti, gli interessa di interagire con della materia, poiché la capacità di interazione con la materia che l'anima ha nei fatti mondani se la porta a casa, se non gliene frega niente di cosa fa o non fa, a livello fattuale l'identità, l'identità si muove come una foglia col vento per l'anima, perché l'anima deve fare esperienze, questo avrei sintetizzato, questo avrei detto dopo, non lo so, forse mi hanno portato via il microfono un po' prima, ma l'hanno tagliato un po' la, ancora dovevo finire, pensa ancora a quante cose dovevo dire, ma l'hanno portato via, però questo è un po' il discorso, ora, evidentemente, lei o che ha ascoltato la registrazione, o che il figlio gli ha riportato queste cose, e ha manifestato questo profondo dissenso in ciò che io ho detto, però la cosa straordinariamente interessante che riguarda tutti quanti noi, è la seguente, lei ha citato tre passi evangelici, ovvero il porgi l'altra guancia, non fra gli ati ciò che non bocchetti ci ha fatto, e amarsi gli unigliati come lui ha amato noi, questo qui ve l'ho già commentato, cioè, lui ha amato come lui ha amato noi, perché noi amiamo come lui, cioè, tu, ascoltami, madre di un ragazzo qualunque, tu, ami come ama lui? Tu, madre di un ragazzo qualunque, tuo figlio, lo ami come lui ha amato noi? Tu stai amando me come lui ha amato te? Come lui ha amato me? Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Madre di un ragazzo qualunque, già madre di un ragazzo qualunque, ma qualunque poi, qualunque, questo è il problema, che voi fate dei principi spirituali inesistenti, perché per voi sono informazioni, non sono fatti, ed è quello che io ho portato in quel convegno, vivete, fate qualsiasi cosa, ma andate fino in fondo con lo sguardo e con l'ascolto, non fermatevi all'amore incondizionato, non fermatevi a etichettare il possesso, guardate fino in fondo ciò che vi va di fare, fate tutto ciò che volete, ma ascoltate, guardate fino in fondo dove vi porta quella cosa lì, perché? Perché quei passi evangelici riuscirete a percepire l'inconsistenza del possesso, se riuscite davvero a conoscere il possesso nella sua inutilità, quando lo vivrete fino in fondo, quando comprenderete la sua natura, quando i vostri desideri vi portano a maggiori followers su Instagram, o avere voti più alti dell'altro, oppure fare un torto al vostro amico per compensare un torto subito precedentemente, andate fino in fondo, gli ho detto io, io gli ho detto, nutrite il vostro nemico se volete sbarazzarvene, io gli ho detto, non accontentatevi di modelli presi dagli altri, perché neanche gli altri li hanno vissuti quelle cose lì, chi vi parla di amore incondizionato probabilmente non sa neanche di cosa sta parlando, quindi io quello che vi dico ragazzi, vi va di fare una cosa, fatela, ma guardate, ascoltate fino in fondo ciò che state facendo, se vi va di seguire un desiderio, un interesse, un egoismo, una... cercate di comprendermi, se vi va, se siete spinti a volere un qualcosa, un appagamento di tipo mondano, che sia il nuovo cellulare, le nuove scarpe, i follower, tutte queste robe qui, benissimo, andateci, andateci fino in fondo, ma guardate, ascoltate ciò che accade nel vostro mondo interiore, mentre fate ciò che desiderate fare, questo detto io, nutri il tuo nemico se vuoi svarazzartene, se no saranno semplicemente frasi fatte che non hanno minimamente valore, tutti quelli che dicono agli altri e ripetono a pappagallo questi pensieri, questi principi evangelici, ma non li hanno vissuti, non hanno fatto delle esperienze spirituali, non si sono lanciati nella merda del mondo in cui hanno vissuto concretamente l'irrealtà del mondo dell'identità poiché Gesù parla di questo, l'irrealtà, l'illusione del mondo ma non del mondo, l'illusione del mondo, l'illusione quindi dell'identità e vedere come l'identità è governata da forze anti-evolutive che ha nominato in un certo modo, finché voi non conoscete il vostro nemico, come fate a sbarazzarvi? Non perché io vi dico o vostra mamma vi dice o l'insegnante vi dice che non bisogna possedere o non bisogna avere interessi mondani o non bisogna avere attaccamento a successo o non bisogna avere attaccamento per le scarpe o non bisogna avere attaccamento ai follower o non bisogna avere attaccamento per la fidanzata o non bisogna ma che cazzo serve? Tu ce l'hai? Madre di un ragazzo qualunque ce l'hai questo non attaccamento? Madre di un ragazzo qualunque ce l'hai questo amore incondizionato? Ma di che cosa cazzo parli se no? Ecco, io e i ragazzi sono andati lì a scuoterli dal torpore dall'inerzia del nulla ma non il nulla di cui parlo io del nulla che gli avete cacciato in testa voi poiché loro devono fare esperienza e poi una volta che fanno esperienze e conoscono i fatti guardandosi e ascoltandosi interiormente quando vanno a leggere i testi sacri quando voi gli parlerete dei pensieri evangelici saranno loro che diranno cazzo è proprio così perché l'ho vissuto seguitemi mi auguro di aver reso l'idea perché questo è straordinariamente importante e lo dico con forza perché noi stessi siamo messi così noi abbiamo preso fatti spirituali vissuti da altri per esempio gli evangelisti gli evangelisti che hanno scritto il Vangelo qualcuno l'avrà scritto il Vangelo a prescindere che Gesù sia esistito o non sia esistito che francamente non mi interessa per me esiste l'insegnamento all'interno del mio cuore il Cristo lo percepiscono all'interno di me non mi interessa francamente se uno è esistito se uno è in alieno se quell'altro è capo di una banda di guerriglieri se gli Elohim non gli Elohim me ne sbatto francamente i coglioni di quelle che sono le informazioni o la controinformazione spirituale di quello che sono i pensatori dalla mente razionale non mi interessa le interpretazioni che possono dare altri questa cosa ve l'ho già detta non mi interessano altre interpretazioni che possono dare altre menti razionali ma non mi interessa neanche l'interpretazione della Chiesa Cattolica per esempio a me beh me ne frega assolutamente niente non dico che coloro che dicono che i Vangeli sono tutti inventati rappresentano dicono un'altra storia poiché in ebraico la lingua originale questa cosa non significa questa e quindi è stato tutto taroccato perché in realtà quindi credere a ste robe è come credere un'illusione sono pienamente d'accordo coloro che hanno distrutto in un certo senso la credibilità dei testi sacri secondo me ha fatto un lavoro fantastico nella misura che coloro che li ascoltano sappiano ciò che stanno ascoltando per quale motivo io dovrei prendere come vera una nuova interpretazione evangelica data dalla traduzione del linguaggio ebraico piuttosto che quello che mi rimanda alla religione cattolica da cui nasce poi la morale che almeno il suo sporco lavoro l'ha fatto e su questo sapete come la penso ci sono vari livelli di coscienza a me non me ne frega un cazzo io salto dal piano dell'interpretazione io salto dal piano dell'informazione sono un giornalista io salto io salto oltre il piano del filologo biblico non me ne frega assolutamente niente l'interpretazione di interpretazioni altrui è questo l'inghippo e questo riguarda più questa mail qui fateci caso quindi esperienze spirituali vissute dall'evangelista vengono riportate e divengono buona novella facendo riferimento all'insegnante che hanno avuto facendo riferimento a storie che hanno ascoltato facendo riferimento al capo dei capi al nostro amato maestro benissimo ok seguito però coloro che leggono sia nella versione di quello che abbiamo ricevuto noi quindi che so il catechismo classico la religione cattolica a noi non ci sono arrivati fatti a noi ci sono arrivati informazioni spirituali tutti i principi spirituali tutti i principi evangelici per noi sono informazioni che noi come credenza abbiamo fatto diventare fatti all'interno della nostra mente ma non sono fatti per noi tanto che siamo costretti a ripeterle a pappagallo e consigliare agli altri di comportarsi in un certo modo perché per noi non sono fatti spirituali quindi quando arriva qualcuno che quei fatti spirituali li ha vissuti e trova conferma in quei passi vedete non è che per me sono vere e ho fatto diventare fatti un qualcosa che ha scritto qualcun altro siccome io ho vissuto quelle esperienze spirituali e quei principi spirituali che tu dici io ho trovato coerenza in quei passi e ne parlo non so se lo vedi quindi siccome ho trovato coerenza nelle mie esperienze spirituali e uso a pretesto passi che hanno scritto quegli altri e magari li interpreto anche in un modo diverso come interpretato in un modo diverso quel convegno lo posso fare perché so quello che sto dicendo poiché ho vissuto i fatti spirituali e infatti i ragazzi non andavano in confusione erano assolutamente centrati e stavano seguendo molto attentamente quello che stavo dicendo io anche gli altri relatori pur che l'intervento abbia scosso assai l'intero convegno anche l'organizzatrice mi chiese un po' con di cosa stai dicendo però hanno compreso ciò che stavo facendo hanno compreso ciò che stavo dicendo non so se mi state seguendo allora torniamo un attimo al discorso io prendo i passi evangelici e per me i passi evangelici anche il concetto di anima di spirito di Gesù dell'aldilà cioè tutto l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto e riceviamo magari leggendo i libri partecipando ai corsi iscrivendosi ai convegni quanti di noi sono ricercatori spirituali che leggono libri partecipano a conferenze eccetera eccetera e immagazzinano informazioni che altre persone che ci ispirano fiducia ci dicono ma non possiamo pretendere che quelle informazioni non possiamo far diventare quelle informazioni dei fatti spirituali pensando che la conoscenza di tali informazioni e di conseguenza tali fa ah l'anima è così così cos'ha ah lo spirito è così così cos'ha e no appena io ti sposto appena appena io vado di traverso tu vai in brodo di giuggele appena io ti sposto l'informazione appena ti ti nego ti distruggo l'informazione tu quel vuoto non lo reggi perché perché non hai fatto l'esperienza spirituale che quel pensiero quell'informazione esprime mi state comprendendo avete capito dove voglio arrivare ho detto tutto questo video segue perfettamente gli ultimi due che ho registrato in merito al vuoto al niente a nessuno in merito allo spirito santo cos'è il sovramentale se non è lo spirito santo la fiammella che si che si posa sul capo degli apostoli è lì che noi dobbiamo arrivare ecco quindi finché noi non uccidiamo le informazioni di carattere anche cercate di comprendermi di carattere mentale informazioni di carattere spirituale di fatti spirituali vissuti dagli altri e non trasformiamo l'informazione in un fatto spirituale vissuto nel nostro quotidiano non saremo minimamente in grado di poter fare un certo tipo di lavoro cioè se noi non distruggiamo tutto il nostro sapere razionale teorico pur che siano fatti spirituali non solo dei testi sacri religiosi ma anche degli altri vissuti dagli altri finché io non faccio il vuoto e non ballo nel nulla e non faccio casa all'imprevedibilità e mi tuffo nel mondo e guardo e ascolto tutto ciò che accade non farò fatti spirituali non vivrò esperienze spirituali che mi consegnano la conoscenza l'autoconoscenza e non posso accedere a un'intelligenza che l'agri yoga chiama intelligenza cardiaca che è l'unica in grado di aprire il sovra mentale che nella cultura cristiana viene chiamato appunto spirito santo non so se ho reso l'idea sto andando avanti sui principi espressi negli ultimi video prendendo a pretesto questa mail è estremamente interessante seguiti ecco quindi tutte le informazioni spirituali noi le abbiamo fatte diventare dei fatti cosa diceva Derrida Jacques Derrida cosa diceva parlando della stampa e questa cosa poi la sapete perché in merito alla stampa confermate quanto vi sto dicendo no? noi diciamo ah ma la stampa condiziona un po' manipola un po' le informazioni per manipolare le persone no? giusto? tende sempre da una parte adesso tende da parte di Israele poi tende dalla parte dell'Ucraina no? avete visto? tende dalla parte del farsi appunturino abbiamo visto in questi anni come la stampa stia andando verso un qualcosa di ben definito anche oscuro no? abbiamo visto questa cosa quindi come dice Derrida la stampa non informa sui fatti ma informa i fatti ovvero riempie di informazioni i fatti questo cosa significa che tutti coloro che informano altre persone che però non hanno visto i fatti che per loro non sono un fatto tali persone devono negare devono negare il fatto cercate di comprendermi se io vi parlo di un'interpretazione di un passo evangelico proveniente da una mia esperienza spirituale a cui ho trovato conferma in quel passo e ve lo racconto interpretandolo in un modo diverso rispetto a quello che la cultura ci ha mandato come spesso faccio vi ricordate no? adesso fatemi gli esempi chi mi segue lo sa voi non dovete assolutamente credere a quello che io vi sto dicendo voi dovete raccogliere il fuoco che vi è dentro se vi è voi dovete raccogliere la consapevolezza che vi è dentro se vi è dovete raccogliere il modus operandi che magari vi posso suggerire dimenticate ciò che vi ho detto e trasformate in fatto spirituale quindi toccate con mano come San Tommaso toccate con mano questa verità facendola diventare una vostra esperienza spirituale ovvero non fate diventare il Vangelo con una serie di informazioni che creano fatti spirituali illusori finché non diventano fatti ma diventate voi il Vangelo raccontate la vostra buona novella non so se ho reso l'idea benissimo la stessa identica cosa non bisogna fare con tutti coloro che per esempio tendono a distruggere gli insegnamenti sacri dicendo che sono una mirina di cazzate perché in realtà in ebraico non significa questo e questo e quello avete capito di cosa vi sto riferendo non fatemi parlare fanno un lavoro formidabile su certi aspetti fanno un lavoro formidabile non sanno in mente quello che fanno ma è sempre sul piano mentale ovvero questi riempiono di altre informazioni di fatti ah in ebraico questo significa questo quindi vuol dire così questo è quello che dice la chiesa una minchiata cioè fatti cioè informazioni da una parte informazioni dall'altra quindi hanno fatto un buon lavoro per distruggere la credibilità delle informazioni sì ma hanno fatto un buon lavoro per noi per farci entrare in quello spazio di vuoto attraverso cui se ci stai se lo vivi può scendere il paraclito vedete lo spirito santo vedete quindi cosa vi sto dicendo tutto è funzionale all'evoluzione la crescita la consapevolezza ma ciò che vi sto dicendo io è una cosa straordinariamente importante se voi non uccidete le informazioni perché le informazioni perché la stampa in un certo senso perché le informazioni di carattere spirituale sono false perché comunque sono sempre condizionati da con lui che le parla pur che la persona sia in buona fede pur che la persona sia una brava persona pur che la persona sia amorevole tutto quanto però c'è sempre un velo della sua esperienza c'è sempre un velo dei suoi meccanismi c'è sempre un velo della sua retina e quindi pur che sia elevata c'è sempre un qualcosa che lui mette tra il fatto spirituale e noi che non abbiamo vissuto quel fatto quindi in un certo senso ancora una volta il vero insegnamento che qual è? percepire il vuoto in nessuno e in niente studiare studiare come se non ci fosse un domani raccogliere la consapevolezza che vi è nelle parole e poi trasformare in fatti ciò che viene studiato o ciò che viene ascoltato e che viene preso in prima istanza per buono io non so se ho reso l'idea ciò che per altri sono fatti per noi non lo sono e ciò che per noi sono informazioni per loro non sono fatti sono informazioni quindi noi dobbiamo trasformare le informazioni in fatti ma come fai a trasformare le informazioni spirituali come fai a trasformare le informazioni per fatti devi distruggere le informazioni non devi credere più a niente la veridicità di un fatto accaduto non conta niente ma il coinvolgimento che il messaggero di questo fatto possa riconsegnarlo autentico qualsiasi messaggero non può riconsegnare il fatto autentico poiché sarà sempre filtrato da lui stesso quindi lui può fare esperienze spirituali sì ma le sue informazioni saranno sempre informazioni prese da noi l'unica possibilità quindi che abbiamo è distruggere tutte le informazioni di volta in volta che ci arrivano e fare pratica spirituale ecco perché ho detto a questi ragazzi nutrite il vostro nemico se lo volete se vi volete sbarazzare di lui perché sennò sono semplicemente un qualcosa che qualcuno vi dice che non conosce neanche lui perché a sua volta lui ha preso per fatti dell'informazione di altri quindi finché non si si sposta da questo piano mentale non si può arrivare da nessuna parte e sapete Thomas Elliot che è uno dei più grandi poeti del novecento sapete come definiva tutti gli uomini che basano la loro vita le loro scelte su informazioni prese da altri quindi la credenza su tutti i piani su tutti i mondi su tutta la filosofia la cultura la religione la spiritualità la fisica eccetera sapete Thomas Elliot come definisce tali uomini gli uomini vuoti ma non sono il vuoto di cui parlo io il vuoto vivo il vuoto come passatevi il termine come una come una una donna vogliosa che che l'uomo la penetri come come nell'atto erotico dell'amore un qualcuno un qualcuno che accoglie un qualcuno che penetra non è quel richiamo all'energia orgasmica quel vuoto poiché se non c'è quel vuoto niente puoi puoi penetrare evidente lui parla proprio degli uomini vuoti quelli morti sapete chi sono gli uomini vuoti morti di quel vuoto morto di cui parla Thomas Elliot sono quelli che prendono per buono qualsiasi cosa ma non hanno esperienza di ciò che prendono per buono sono quelli che pensano di essere ciò che non sono sono coloro che incapaci di sostenere il vuoto guai chi gli tocca le stampelle che si sono costruiti hanno preso anche dalle religioni oppure hanno preso da nuove religioni che stanno nascendo oppure da contro religioni che vanno a distruggere il significato tradizionale dei testi chiama uomini vuoti tutti coloro che hanno il cervello pieno di informazioni credendo che tali informazioni siano fatti spirituali poiché prendendo tali informazioni per fatti spirituali l'identità gli dice no ma questa cosa è così non c'è bisogno che l'esperienzi ma di fatto se tu non esperienzi e per esperienziare devi farti vuoto nessuno e niente tutto ciò non ha valore e di conseguenza noi abbiamo tramandato in questi duemila anni informazioni su informazioni informazioni di altri per informazioni degli altri informazioni per informazioni informazioni da lui che passa informazioni agli altri così abbiamo allevato i nostri figli pieni di informazioni e sapete perché non ci danno retta perché puzzano l'ipocrisia quindi madre di un ragazzo qualunque qualunque oltretutto un bel paio di coglioni qualunque sei tu e vuoi rendere qualunque tuo figlio lui non è qualunque tu sei qualunque quindi comincia a farti vuoto e nessuno tu comincia a uscire dalla madre del ragazzo qualunque scopri chi sei esci dal mondo dell'ignoranza altrimenti tutto ciò che dirai sarà ipocrisia e tutti ciò che diranno la verità poiché è una verità vissuta per esperienze spirituali ti faranno paura e tu li rindegherai e porterai via tuo figlio da coloro che li possono scuotere non dando la possibilità a tuo figlio di entrare in contatto col fuoco dell'insegnamento per farlo dormire all'interno della segatura mentale come dice Thomas Elliott di uomini imbassamati che sembrano vivi ma sono manichini che sono appiene di paglia nel loro cervello paglia che vai in fumo appena gli dai fuoco come le idee appena vi dico qualcosa di traverso andate in brodo di giuggele e guai guai a toccare il mio figlio di tutte le cazzate che invece gli ho detto io o che dicono tutti quanti gli altri poiché ripetono cose che francamente non conoscono madre di un ragazzo qualunque quei pensieri evangelici che tu hai citato per te non contano un cazzo perché non sai minimamente cosa significano non li hai vissuti sul campo non li hai sorpresi prima di leggerli per te sono un insegnamento già detto non è un qualcosa che tu dici ed è per quello che non ti caga nessuno ed è per quello che tuo figlio quando tu gli parli di questa roba non ti caga e probabilmente ha cagato me quel giorno lì ed è per quello che magari lo vedi un po' strano e ti guarda con sospetto perché puzzi di ipocrisia come puzzano di ipocrisia come puzziamo noi tutti di ipocrisia quando siamo coinvolti nell'identità e guarda un po' il capo dei capi prendeva calci gli ipocriti l'ipocrisia stessa scrivi e farisei ipocriti dottori della legge con le vostre stronzate col vostro fare voi non entrate nella realtà e non fate entrare neanche gli altri non è forse quello che è successo nella pandemenza le cose stanno così e chi diceva cose contrarie no le cose stanno così eh cosa gli dice Gesù cosa gli dice voi rasta di viper serpi immonde dottori della legge scienziati voi non centrate nel vero ma così facendo impedite anche gli altri di entrarci questo dovrebbe dovrebbe ricionare invece che porti l'altra guancia che minimamente non sai niente cosa significa se avete compreso quanto ho detto finora Federico 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 però Federico 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 però mi sembra che tu sia un po' nell'ego Federico 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 a me mi pare che tu comunque sia preso sia preso ragazzi l'ego ce l'abbiamo tutti la partita non è dissolvere l'ego la partita è sedersi su un altro piano e lasciare l'ego lì comunicare attraverso l'ego non non dissolvere l'ego perché se dissolvete l'ego se dissolvete l'ego se dissolvete l'ego mi dite che cazzo siete se dissolvete l'ego se se dissolvete l'ego che cazzo siete niente e quindi interno lo reggete quindi vi consiglio di non dissolvere l'ego di sedervi altrove di parlare comunicare vivere attraverso l'ego ma non dissolverlo allora se avete compreso quanto detto finora in Giovanni 16 sentite un po' cosa dice ma io dico la verità è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il paraclito se invece me ne vado lo manderò a voi e quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato alla giustizia e al giudizio vedete cosa significa questo non l'ha detto nessuno non l'ho letto non l'hai già detto l'ho detto che dico ora cosa significa è bene che io me ne vada lascia che l'idea che tu hai di lui se ne vada sono lui non cammina con te con te cammina quello che è stato detto cammina con qualcosa di morto tutto ciò che è conosciuto è qualcosa di morto tutto ciò che non si conosce è vivo diceva Krishnamurti lui dice lascia che io vada via lascia che io me ne vada togli tutte le idee che hai di me togli tutte le cristallizzazioni togli tutte le informazioni che hai preso togli tutte le informazioni che ho dato togli fatti vuoto fatti nessuno fatti coppa e allora ti manderò qualcuno ovvero il paraclito altro che non il consolatore ovvero lo spirito santo ti si apre il sovra mentale quello ti darà la vera conoscenza l'autoconoscenza non avrai neanche più bisogno di leggere le cose degli altri non avrai neanche più bisogno di ascoltare questi video non avrai neanche più bisogno di fare tutto ciò che hai fatto per cercare conferme di ciò che pensi di sapere è quello che ti ha detto ma io vi dico la verità è bene per voi che io me ne vada dovete lasciarlo andare nelle vostre rappresentazioni fate il vuoto fate il vuoto che non vuol dire il vuoto mentale vuol dire che voi vi siedete su uno spazio di vuoto e lasciate queste rappresentazioni mentali come un qualcosa di inesistente se voi non fate questo lavoro qui e precipitate su un altro livello d'ascolto i fuochi del cuore non possono liberarsi e i fuochi del cuore hanno una loro intelligenza ma di questo magari ne parliamo e vi consegnano loro l'ingresso al sovramentale l'ingresso di quella fiamma quella fiamma che si posa sul vostro capo però per fare questo bisogna che lasciate andare lo lasciate andare l'immagine che avete di lui l'immagine di quello che pensate di aver capito in un insegnamento quello che dite agli altri di quello che avete capito di quello che lui ha detto eccetera eccetera dovete uscire da quella logica lì vi sta dicendo uscite dalla logica mentale uscite dall'identità rinunciate a seguire quello che sono i pensieri del mondo quello che sono le emozioni del mondo quello che sono le azioni del mondo rinunciateci che non vuol dire non fatele vuol dire non essere coinvolti sedetevi sullo spazio di vuoto diventate nessuno sostenete il niente e vi mando il paraclito questo ha detto e chi me l'ha detto a me? nessuno è qua altrimenti come diceva Debord il consumatore reale è il consumatore di illusione tutti i consumatori di illusione chi da una parte che dicono che i Vangeli sono una minchiata e chi dall'altra chi dicono che invece i Vangeli sono cose reali tutti e due dei pirla perché? perché sono pieni di informazioni come diceva Derrida la stampa non informa sui fatti informa i fatti basta riempire i fatti che non avete vissuto di informazioni perché? spegnete l'insegnamento lo vedete? è questo il tempo il tempo quindi è siamo in terza dimensione in questo momento abbiamo una serie di informazioni che prendiamo per fatti coloro che passano in quarta dimensione sono coloro che rinunciano alle informazioni se ne sbattono dei fatti vissuti da altri ma vivono i fatti esperienziati e cercano di esperienziarli da nessuno vuoto e niente costora accederanno alla quarta dimensione perché è lì perché è lì perché se tu lo lasci andare scende il paraclito coloro invece che non si fidano del vuoto non si fidano del niente non si fidano del vuoto vivo ma vogliono il vuoto pieno che in realtà è il vuoto morto di cui parla Thomas Eliot ebbene Thomas Eliot dice è questo il modo in cui finisce il mondo è questo il modo in cui finisce il mondo è questo il modo in cui finisce il mondo non già con uno schianto ma con un pianisteo ovvero non vi resterà che piangere poiché piano piano tutte queste cristallizzazioni tutte queste informazioni che pensavate di essere fatti crolleranno tutte inesorabilmente chi da una parte chi dall'altra viene giù tutto interiormente ed esteriormente ciò che rimarrà è solo la vostra capacità di sostenere il vuoto e se siete capaci di sostenere il vuoto allora scende il paraclito e da quel momento non sapete di essere un'anima siete un'anima non sapete cosa è lo spirito siete incontrati nello spirito non sapete che vivete al di là della maestria della morte semplicemente lo percepite e allora in quel momento diventate voi il Vangelo e non avete più bisogno di mediatori di interpreti di giornalisti è pieno di giornalisti è pieno di filologi di ricercatori ce ne sono pochi questo è il tempo di ricercatori quelli che mettono e quelli che mettono in discussione tutto il sapere che hanno raccolto e che gli ha dato le risposte utili per quel frangente ma adesso è tempo di entrare in confidenza col vuoto con niente con nessuno ovvero con Dio ci vediamo alla prossima ragazzi se vi sono domande scrivete ciao e non è finita qui ragazzi con grande piacere con un pizzico di commozione vi annuncio che è uscito il mio nuovo libro l'io sono essere niente per essere tutto edito progetto fratellanza e impreziosito da due persone straordinarie quindi dalla prefazione di Elena Bianchi e Lori Spierini a cui tengo tantissimo è un libro molto vero molto vivo nato nell'adesso è il miglior libro che ho scritto anche perché non l'ho scritto io e chi l'ha scritto? io non l'ho scritto anche bello eh? più niente di così ve lo consiglio è un viaggio alla scoperta di ciò che non siamo cercando di contattare ciò che siamo senza descrizione è un po' particolare molto bello molto vero molto vivo ve lo consiglio ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti